eccoci allora iniziamo con la prima domanda racconti in breve come sei arrivata ad essere un'insegnante di musica penso che tutto sia nato da un concerto a cui ho assistito con quello che era il mio insegnante di conservatorio di violoncello che è anche stato colui che ha importato il metodo Suzuki d'Italia e sono andata ad assistere al concerto dei bambini dell'orchestra Suzuki di Torino e non pensavo che bambini così piccoli potessero essere già in grado di suonare in quel modo e quindi sentire questa orchestra di bambini e vedere tutto il lavoro degli insegnanti che c'era dietro penso sia stato quello che mi ha fatto scattare questa cosa del voler insegnare in musica e soprattutto ai bambini racconta che cosa ti piaci o cioè i punti di forza e qualcosa che non va i punti di debolezza rispetto all'insegnamento della musica e in particolare rispetto alle scuola in cui lavori adesso allora in genere penso che purtroppo nello stato italiano l'insegnamento della musica avvenga troppo tardi nel senso che iniziano a fare musica all'elementare spesso non per colpa degli insegnanti l'ora di musica magari viene sacrificato viene fatta ovviamente da un insegnante che può non avere preparazione in quel campo e quindi il punto secondo me di debolezza è questo al momento per come è strutturato il percorso scolastico italiano cioè che l'insegnamento della musica non inizi già alla scuola dell'infanzia e soprattutto che non venga affidato scuola dell'infanzia e scuola primaria a degli specialisti a degli insegnanti appunto di musica e invece per quanto riguarda la scuola in cui insegno beh purtroppo c'è ancora questa problematica del periodo che stiamo vivendo del covid e quindi la difficoltà soprattutto nella divisione in gruppi più piccoli distanziamento e quindi alcune cose sono sono limitate per per questa per questa cosa punti di forza adesso abbiamo iniziato questo percorso a ottobre e iniziano a vedersi i primi risultati anche dalle maestre inizia ad esserci collaborazione e quindi penso che insomma si sia si stia andando per la strada giusta bene invece raccontami l'episodio in cui hai adottato la strategia didattica più efficace eh nelle tue lezioni di musica allora un episodio in particolare non non mi viene in mente ehm di volta in volta secondo me è necessario che l'insegnante abbia molta elasticità e nel senso deve valutare al momento chi ha davanti come la situazione di quel giorno e quindi a seconda della giornata a seconda di ciò che è successo prima della lezione di musica che può aver influito in qualche modo sul gruppo eccetera deve avere una elasticità tale da inventarsi al momento una strategia per riuscire ad arrivare all'obiettivo della giornata che si era preposto cercando di sfruttare ciò che quel giorno insomma eh c'è la situazione che che c'è quindi in realtà un episodio preciso non non mi viene in mente certo dobbiamo essere elastici insomma dipende la giornata ehm ma invece raccontami come sei riuscita a coinvolgere nella tua lezione di musica una o più persone in difficoltà o quando hai prodotto un'azione inclusiva con la musica e chiamandoli a magari assumere un ruolo non so ad esempio chiamarli al centro della classe per fare il direttore piuttosto che eh ci sono altri bambini invece che hanno come difficoltà eh la timidezza quindi in questo caso bisogna fare l'esatto opposto cercare di includerli far fare tutti insieme la stessa cosa e basta magari non guardarli direttamente eh e questo fa già sì che loro pian piano si introducano nel gruppo e pian piano prendano confidenza e riescano poi a fare quello che fanno gli altri se la difficoltà invece è una difficoltà di tipo cognitivo o di coordinazione eh lì c'è un lavoro più lungo a seconda della della difficoltà bisogna con pazienza e ci vuole tempo e pian piano lavorare nello specifico su appunto sul problema di coordinazione piuttosto che eh e pian piano cercare di di risolverlo e migliorare per quanto riguarda l'includere eh mi è capitato una volta un paio di anni fa abbiamo dovuto fare questa lezione per insegnanti e eh avevo di fronte questi 35 35 40 insegnanti tutti seduti sulla loro sedia con il loro quaderno la loro matita per gli appunti e in realtà poi dopo cinque minuti eh abbiamo chiuso il quaderno e il fatto di fare e far a loro le cose che dovevo fare io cioè non semplicemente far vedere ma far fare ha fatto sì che ci fosse appunto un un risultato di un altro di un altro tipo fare è meglio che non solo vedere e appuntarsi le cose che si sono viste benissimo grazie mille grazie mille figurati grazie a te grazie mille 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 gra